20 anni di mutuo da pagare per i cittadini di Montoro. A stabilirlo non è stato un istituto di credito ma l'amministrazione comunale di Montoro che ha provveduto a rinegoziare i vecchi mutui accesi presso la cassa depositi e prestiti. 3 milioni e 800 mila euro, questa l'esposizione che la nuova amministrazione si è trovata a dover fronteggiare. 9 euro e 50 centesimi ad abitante per i prossimi 20 anni. I calcoli che si potrebbero sviluppare sono molteplici. La cifra 3 milioni e 800 mila euro e la data 2034 costituiscono però dei riferimenti sui quali sarà possibile riparametrare l'azione dell'amministrazione comunale in carica. I mutui sono serviti per realizzare opere pubbliche ed è soprattutto sull'effetto che queste opere hanno avuto sulla qualità della vita dei cittadini che bisognerà effettuare delle valutazioni. Il dato assoluto comunque consegna all'esecutivo in carica una discreta capacità di indebitamento che significa possibilità di fare ricorso a nuovi mutui per realizzare nuovi investimenti. Del resto questa è anche la fase in cui l'amministrazione comunale potrà mettere in campo investimenti attraverso i trasferimenti straordinari dovuti al processo di fusione. È di 800 mila euro l'anno il fondo straordinario a cui l'ente può accedere e con la definizione del bilancio 2014 si è già aperta la fase della nuova disponibilità finanziaria. Sui mutui mentre la maggioranza consigliare non si è fatta sfuggire la possibilità di una significativa riduzione delle singole rate annue e del prolungamento dell'ammortamento fino al 2034 per la minoranza che nel corso della seduta consigliare sull'argomento si è astenuta non si registra un solo vantaggio. Queste operazioni hanno dichiarato i consiglieri di opposizione hanno sempre un prezzo da pagare in interessi passivi con un aggravio complessivo per i futuri bilanci e le future amministrazioni. Non siamo favorevoli a scaricare questi debiti sulle amministrazioni future, non ci sembra il miglior modo di governare la città.